Lucente è una famiglia di lampade, in particolare realizzate come lampade da tavolo e sospensione. Mi sono ispirata al mondo della gioielleria, in particolare della geomologia, andando a osservare da vicino i tagli delle pietre preziose dei diamanti, osservando come la luce riflette, rinfrangendosi su questi oggetti preziosi, andando a cercare di riprodurre questo effetto in questo prodotto.